Ben trovati con le notizie dal Consiglio regionale, difensore civico regionale in prima linea per tutelare i pendolari della linea ferroviaria Novara-Treviglio che rischiano di essere sanzionati da Trenord per essersi incamminati sulla linea ferroviaria dopo essere rimasti chiusi sul treno per un'ora e mezza tra le stazioni di Pregnana e Rò. Lo prevede una mozione di Noi con l'Italia approvata all'unanimità nella seduta di Consiglio regionale. Nel corso d'aula la questione treni è stata però al centro di altri interventi. Con due question time del gruppo misto e del Movimento 5 Stelle si è parlato del convoglio che lo scorso 4 maggio ha saltato la fermata di Romano di Lombardia nella Bergamasca fermandosi oltre la banchina di stazione e sulla presenza delle guardie giurate sui convogli. Un'altra mozione presentata dal PD, sempre riferita alla sicurezza, è stata rinviata in Commissione Trasporti per ulteriori approfondimenti. Il 29 maggio, nella ricorrenza della storica battaglia di Legnano del 1176, si celebra la festa della Lombardia, la regione, i suoi abitanti, le sue eccellenze. La festa della Lombardia, istituita con una legge regionale del 2013, si tiene a Palazzo Lombardia e prevede la consegna di premi e riconoscimenti a persone che si sono distinte per l'operosità, l'impegno e la creatività. Un imponente palazzo neoclassico affacciato sulla sponda bergamasca del lago di Iseo è stato consacrato alle arti, alla letteratura e alle scienze. È la Galleria Tadini di Lovere, creata dal conte Luigi Tadini, dove si possono ammirare dipinti, sculture, disegni, incisioni, porcellane, minerali, fossili e animali imbalsamati. Una collezione che rispecchia la varietà di interessi dell'aristocratico cresciuto nel clima dell'illuminismo lombardo, dalle opere di Canova alle porcellane di Capodimonte a libri di letteratura, filosofia e scienze. Per questa edizione è tutto e vi diamo appuntamento a settimana prossima.